Nel mondo sportivo, nel mondo agonistico, il valore del singolo è spesso il metro che viene utilizzato per valutare chi effettivamente comunque fa la differenza, a volte si è poco attenti a quello che è il lavoro del gruppo. Anche nel mondo dell'intrattenimento non si va tanto fuori da questo paradigma, eppure il mondo del pro wrestling permette anche magari appunto ai lavori di gruppo di avere uno spazio, un screen importante e comunque di essere molto molto apprezzati. E questo in particolar modo è stato uno degli aspetti che mi ha da sempre fatto appassionare alla All Elite Wrestling, ma ancora una volta benvenuti o bentornati su Wrestling Unico Amore, con voi come sempre il vostro Draco, che vi ricorda che qualora vi piaccia il nostro progetto, la nostra attività che ha un occhio molto largo sul mondo del wrestling, non è polarizzata su un'unica realtà, beh, ci potete aiutare in tanti modi molto semplici, come per esempio mettendo un like a questo o ad altri contenuti, lasciando i vostri commenti, dicendoci le vostre opinioni, che sia qui su YouTube, ma magari anche sui nostri social, dove siamo presenti attivamente in modo quotidiano, e se volete abbiamo anche un gruppo Telegram dove chiacchierare quotidianamente, ci raggiungete letteralmente ovunque tramite i link che trovate in descrizione di questo video. Detto questo, i lavori di gruppo in All Elite Wrestling, allora, come già detto, l'AW fin dal principio ha avuto un po' questo aspetto di avere un occhio attento alle stable, così come magari anche ai trios, andando a definire magari che cos'è una stable nel wrestling, beh, è una unione di persone, devono essere almeno tre persone sostanzialmente, è vero che poi il minimale, spesso e volentieri, affinché proprio si parli di gruppo, magari è di quattro persone, però voi prendete per esempio, parlando di All Elite Wrestling, il Death Triangle, oppure gli Acclaimed, e vedrete che un tag team si è associato ad un'altra persona, ha iniziato a fare il gruppo con un'altra persona, quindi abbiamo Pentagon, o Penta, El Zeromiedo e Ray Phoenix, che si sono uniti a Pac, oppure gli Acclaimed, Max Caster e Anthony Bowens, che si sono uniti a Billy Gunn. Quindi si è creata una dinamica di gruppo, e nonostante questa cosa sia sempre stata molto coltivata dall'AW, ad oggi devo leggere anche fra le varie critiche che si imputano alla compagnia di Tony Khan, fra le varie problematiche, che non c'è più un occhio attento alle stable, così come anche magari al coltivare quella dinamica del personaggio della stable, comunque che è presente, che appare comunque con costanza, una cosa che è anche abbastanza dell'assurdo, perché comunque la All Elite Wrestling è cambiata rispetto al principio, questo sicuramente sta ormai trovando una sua identità più definita, però questo aspetto non l'ha mai perso. Partiamo un po', diciamo, con della cronistoria, prima di parlare di dati e di situazioni attuali. L'inizio, proprio il principio della All Elite Wrestling, specie proprio in televisione, vede la formazione di una stable. La prima puntata di Dynamite su TNT ha come focus proprio la contrapposizione di Chris Jericho insieme a Santana e Ortiz alla Elite. Il tutto però poi porta, nel main event del primo Dynamite, alla formazione della Inner Circle, con l'arrivo di Jake Hager, che si unisce appunto a Chris Jericho, Santana e Ortiz e Semmy Guevara, che nell'apertura della puntata aveva ricevuto appunto supporto da Chris Jericho dopo il match contro Cody Rhodes, unendosi poi alle Champion. Quindi, proprio l'inizio dell'avventura televisiva della All Elite Wrestling, vede già una stable prendersi la scena. Successivamente, poi nel corso delle settimane, in diversi cercheranno di contrapporsi alla Inner Circle, fino a quando un John Moxley non deciderà di prendersi il titolo mondiale della AW, riuscendoci a Revolution del 2020, ma per fare quello comunque ha dovuto affrontare vari membri della stable di Jericho, fra le varie persone fatte per, diciamo, come intermezzo per arrivare al titolo. John Moxley, che poi è sostanzialmente uno dei protagonisti della nascita di una stable che ancora oggi è molto importante all'interno della AW, ovvero Blackpool Combat Club, Blackpool Combat Club che insieme alla Elite è stato un po' il gruppo che abbiamo visto più presente sulla scena per dinamiche interne, per dinamiche anche di contrasto comunque con altri brazler, con altre situazioni comunque che si creano all'interno del roster e quindi Blackpool Combat Club, John Moxley, Brian Denerson, Claudio Castagnoli e Will Eriuta, prima con anche il supporto di William Regal, però adesso solo loro, in qualche modo sono stati molto presenti nel corso di questa annata, contro la Elite, contro magari Bullet Club Gold, contro l'House of Black, insomma, diciamo, si sono creati tanti tanti intrecci che magari è difficile comunque da tenere sott'occhio, ma dobbiamo considerare anche per quanto riguarda la gestione delle stable e degli scontri tra i vari membri del gruppo, quella che è un po' l'origine, l'identità della All Elite Wrestling. All Elite Wrestling nasce sostanzialmente dal portafoglio e dall'idea di Tony Khan. Tony Khan aveva appunto questo fondo ricevuto dal padre, comunque una quota iniziale per avviare una sua attività proprio sua personale e quindi Tony Khan ha avuto l'idea di creare la All Elite Wrestling per farlo, ha preso però delle figure che avevano una formazione molto particolare, ovvero gli EVP, ancora, per la maggior parte comunque ancora attuali all'interno dell'AiW, ovvero i membri dell'Elite, Ken Omega e Young Bucks e poi Cody Rhodes. Da dove venivano Omega, Bucks, ma così come anche Cody sostanzialmente prima dell'AiW, venivano dalla New Japan, venivano dal Giappone, così come anche magari dal frequentare il mondo delle indie, del wrestling indipendente. Quindi, quando si è trattato comunque di sviluppare un prodotto, grande attenzione anche al wrestling di gruppo, alle dinamiche di gruppo, ma in chiave un po' più orientale che magari occidentale. In occidente siamo abituati a vedere una situazione che, anche se è di gruppo, magari prendiamo per esempio Judgment Day, no? Comunque all'interno della WWE stanno sempre tutti insieme, fanno tutti comunella contro quel preciso bersaglio. In Giappone, invece, spesso le stable comunque si suddividono nelle loro dinamiche. C'è chi magari va per il titolo principale, ci sono i due che magari fanno coppia, sono un tag team e allora vanno per i titoli di coppia. C'è chi magari va per un titolo secondario, diciamo un titolo intermedio. Insomma, non si sta sempre tutti insieme. Poi ci si fa forza comunque l'uno con l'altro, ma non c'è quella caratterizzazione del siamo un gruppo, però lo siamo se stiamo sempre insieme. Ecco, è una situazione un po' più diversificata. E questa è una cosa che è successa anche poi in AW, che va avanti ancora oggi. Vediamo magari che ci sono membri di stable che in questo momento stanno per esempio partecipando al Continental Classic Tournament per cercare di diventare il primo Triple Crown Champion della All Elite Wrestling. C'è chi magari sta facendo un percorso in coppia, sta presenziando, ma in altre dinamiche. E c'è ancora oggi una forte, ma forte partecipazione delle stable, o comunque dei gruppi in generale, ripeto, anche i trios tecnicamente sarebbero comunque considerabili come stable per certi versi. E c'è una forte partecipazione appunto dei gruppi, dei lavori in gruppo o degli esponenti di esso alle dinamiche narrative della AW. Ancora una volta, tra l'altro ecco, dopo un po' di cronistoria portiamo anche un po' di dati e ho proprio fatto i compiti anche questa volta, anche per questo video, compiti molto dettagliati e quindi ho qualche dato per voi riguardo alla presenza di stable e di gruppi all'interno della AW. E al momento abbiamo effettivamente otto gruppi, andando poi a considerare anche i trios, non ho voluto considerare proprio il Mondoring of Honor perché è un po' più, diciamo, contorto e un po' più incasinato, la meccanica delle porte girevoli è molto più presente, però se dovessimo andare a considerare anche Ring of Honor andremmo anche sopra i dieci gruppi. E al momento abbiamo per esempio Blackpool Combat Club, l'House of Black, la Passione Ingovernable, abbiamo la Don Callis Family, abbiamo quindi appunto un insieme, diciamo, di elementi che in qualche modo portano appunto a dinamiche diversificate, abbiamo gli acclaimed che sono in questo momento i campioni trios, abbiamo il patriarcato di Christian Cage, che comunque sia, per quanto veda solo un esponente principale in qualche modo che si prende la scena, per ora, perché occhio a Nick Wayne, però comunque sia, è un gruppo anche quello, ci sono Christian, c'è Lucia Sauros, c'è Nick Wayne, appaiono insieme, si fanno forza l'un l'altro, e un gruppo effettivo, a tutti gli effetti. Quindi appunto, situazione molto variegata, ma quanto appaiono poi effettivamente questi gruppi on screen? O comunque gli esponenti dei gruppi, quanto tempo hanno on screen? Beh, andando a fare proprio un calcolo, solo in questo mese di dicembre, vi posso far vedere che i membri delle stable, per quanto riguarda il tempo in gruppo, siamo a un totale di 88.75 minuti, andando a prendere il minutaggio dei vari match, senza quindi contare i segmenti, che magari già solo fra l'entrata, il momento del discorso e via dicendo, comunque è un po' più difficile da calcolare, però prendendo solo il minutaggio dei match, 88.75 minuti in gruppo, con i 2.0 Matt Menard e Angelo Parker, insieme, un po' ribattezzati 2.0 e Friends, quindi anche Jack Hager, Annagevia dicendo, insieme hanno presenziato on screen per 17.99 minuti, con i Top Flight e Action Andretti, formatisi recentemente, che seguono con 16.08 minuti, e poi la già citata Don Callis Family, con 9.13 minuti, e come potete vedere, anche recentemente, c'è stata la formazione di un altro gruppo, quello dei Top Flight e Andretti, formatisi poco dopo, comunque Full Gear, che hanno ricevuto una sfida da Penta, Commander e Eliko del Vichingo. Infatti vi consiglio davvero di recuperare il main event di Rampage Winter is Coming, perché è stato davvero molto molto interessante, e quei 16 minuti sono appunto il minutaggio del main event, e vi consiglio davvero di recuperarlo. Subito dietro di loro seguono la House of Black, che appunto con Malachi Black e Buddy Matthews comunque in questo momento sta presenziando anche nelle dinamiche dei tag team, però c'è anche un esponente singolo che in questo periodo si sta facendo notare molto molto bene, anzi in realtà due esponenti singoli che si stanno facendo notare bene, però appunto come potete vedere c'è una presenza comunque di gruppi già solo in questo mese di dicembre, non ho considerato la puntata di Collision Winter is Coming, perché nel momento in cui sto registrando questo video ancora non ho potuto vederla, quindi per non attardarmi ulteriormente ho un po' di necessità di preparazione, di materiale da poi appunto mostrarvi con cui puoi chiacchierare con voi, però ecco manca giusto quella puntata e poi le altre che seguiranno in questo mese di dicembre, però ad oggi comunque a 16 dicembre c'è una buona presenza di gruppi on screen già solo per lottare, mi sto soffermando con questo sul lottato durante gli show televisivi. E in singolo invece com'è la situazione? Beh, in singolo ci sono esponenti delle stable che stanno avendo decisamente un ottimo minutaggio, siamo a 223 minuti e 73 complessivi e come potete vedere ci sono alcuni che stanno davvero partecipando tanto a quello che accade, come per esempio Brian Danielson che con tre match ha accumulato un minutaggio on screen di 50 minuti e 18, Swerve Strickland, leader della Mogul Embassy che ha accumulato 31 minuti e 67 di tempo televisivo e Jon Moxley con i suoi 30 minuti e 55, quindi due membri del Blackpool Combat Club molto presenti e poi Swerve Strickland che davvero sta salendo molto molto rapidamente nelle gerarchie del roster dell'AW. Ovviamente oltre a loro ci sono anche tutti gli altri che stanno partecipando al Continental Classic Tournament, c'è J. White, leader del Bullet Club Gold, Rush della Fassione In Governables e Brody King appunto membro della House of Black che ha accumulato un minutaggio di 26.79 minuti insieme a Julia Hart, anche lui è molto molto costante nelle dinamiche on screen e quindi potete vedere appunto com'è la situazione in A.W. Ci sono sì dei gruppi che comunque stanno sempre insieme, ma perché giustamente i membri dei Two Point One non potrebbero mai partecipare in modo competitivo comunque a una situazione come il Continental Classic Tournament, quindi si preferisce prendere membri di altri gruppi e invece poi altri gruppi continuano a stare insieme. Una situazione appunto molto diversificata, tant'è che i membri delle stable sono quelli che appaiono di più on screen o comunque sia sono sempre un po' in quella chiamiamolo un po' top 3 o comunque top 5 magari anche fittizia perché alla fine per fortuna l'A.W. e nessuno in generale ne fa di classifiche riguardo a chi appare di più però comunque sono tra quelli che appaiono di più ogni settimana negli show televisivi della All Elite. E chi è che fa meglio di loro? Beh, in questo momento per quanto riguarda la competizione esclusivamente tag team nessuno. Per quanto riguarda invece la competizione singola abbiamo Andrade e l'idolo che ha totalizzato fino ad oggi 16 dicembre 43.8 minuti di tempo televisivo e poi Eddie Kingston con 34.55 minuti da specificare che comunque sia Andrade così come anche Brian Danielson fino ad oggi hanno lottato tra i match hanno un match in più rispetto magari a Eddie Kingston altri partecipanti comunque del torneo tra l'altro nel collision comunque di stanotte ci saranno degli altri match della Blue League quindi sostanzialmente questi dati diventeranno molto vecchi già solo quando uscirà questo video però il tutto appunto è per farvi capire che comunque sia in All Elite Wrestling c'è tanta attenzione alle stable c'è tanta attenzione agli esponenti dei gruppi semplicemente quello che vediamo è un po' più suddiviso rispetto magari a ciò che possiamo vedere in altri prodotti dove troviamo sì le stable le dinamiche di gruppo ma sono un po' più centrate sono legate ad un'unica situazione ad un unico contesto mentre invece l'AiW avendo una anche maggiore necessità perché ce ne sono davvero tanti di gruppi già solo considerando proprio gli show televisivi quelli che vanno negli show televisivi beh l'AiW ha appunto altre esigenze e per quanto sì magari comunque è bello vedere i tre contro tre oppure gli scontri come l'Aner King di Arena il Blood and Guts cioè sono delle situazioni che costruite bene comunque sono accattivanti ma non possono esserci solo quelle né tantomeno solo da quello si deve valutare quanto un gruppo è effettivamente presente e competitivo bisogna riuscire a guardare il quadro di insieme queste erano le mie opinioni in proposito condite magari da qualche dato come sempre però vi invito a dire la vostra quindi volate qui sotto nei commenti ditemi se c'è un gruppo che effettivamente vi piace molto all'interno dell'AiW un lavoro comunque che vi sta piacendo un po' di più in quest'ultimo periodo che vi è piaciuto tanto nella storia finora della All Elite Wrestling e noi ovviamente ci vediamo a un prossimo video qui su Wrestling Unico Amore un po' di più